Ad agitare le acque della politica gallipolina, se mai si fossero calmate, oggi arriva Antonio Rotundo che intervenendo nel dibattito della città ionica denuncia a Gallipoli c'è il pericolo di voto di scambio ed è proprio dietro l'angolo. Ci sono più elementi che devono preoccupare, preoccupare le forze democratiche, preoccupare le autorità preposte. La campagna elettorale deve svolgersi nel massimo della correttezza e della serenità. Il rischio di voto di scambio a Gallipoli è un rischio molto concreto. Noi adotteremo un'iniziativa verso il prefetto, verso le istituzioni preposte a garantire che vi sia un controllo e una vigilanza democratica. Secondo Rotundo, infatti, la città di Dagnoni che rischia seriamente di legare ancora una volta il proprio nome all'infiltrazione mafiosa, a seguito dello spaccato emerso dal rapporto tra criminalità e politica, scrive Rotundo, la presenza tangibile della longa mano di quella politica corrotta connessa al voto di scambio è una realtà pressante. Prova ne siano le feroci polemiche che hanno seguito i recenti cambi di schieramento dei candidati Gallipolini, sempre accompagnate continuo a Rotundo da velate minacce da retroscena più legate a interessi personali che alla politica. I retroscena a cui fa riferimento il candidato alle regionali del PD sono emersi proprio durante un incontro con l'elettorato Gallipolino del partito, lo stesso elettorato cui ieri in una nota faceva riferimento il giovane candidato del PDL Gallipolino Antonio Barba, chiedendosi come mai una città come Gallipoli, dalla nobile storia e dalla grande tradizione politico-amministrativa, sia scomparsa dalle liste del partito democratico. Ed oggi sulla vicenda interviene anche lo zio onorevole che non se lo lascia ripetere due volte e sbotta, finalmente un punto d'incontro con il centrosinistra e con i suoi candidati cittadini e provinciali, scrive il deputato Vincenzo Barba. Siamo perfettamente d'accordo sulla necessità di accendere i riflettori della pubblica attenzione sui rischi del voto di scambio, che lungi dall'essere una pratica meramente gallipolina, trova breccia in tutte le latitudini del mondo, Salento compreso. Pertanto, al fine di evitare la demagogica e dannosa levata di scudi dal sapore vagamente elettoralistico, una levata di scudi alla quale non si dà seguito con l'attivazione di alcuna iniziativa, tutti noi ci dichiariamo immediatamente favorevoli all'attivazione di un attento monitoraggio delle dinamiche cittadine. Su due cose, tuttavia, occorre essere chiari da subito, continua Barba. Gallipoli non può essere offesa preventivamente da alcuno per ragioni di carattere elettorale con allarmismi inutili e pretestuose. E poi, le vicende del nostro territorio e della nostra città hanno dimostrato che non c'è nessuno, e dico nessuno che possa ritenersi casto e puro per definizione. Anzi, chi fino ad ora lo ha fatto, conclude a muso duro Vincenzo Barba, ha fatto delle figuracce a tutti i livelli, sulle quali sin troppo si è taciuto, ed il centro-sinistra ne sa qualcosa.